Bene, è giunto il momento di scoprire le spose di Mary. Le spose di Mary è un affermato atelier luinese che oltre a disegnare e creare su misura l'abito da sposa o da cerimonia su richiesta e secondo il gusto del cliente, propone i suoi brand quali per la sposa Venus, Anna Rosa, Arianna, Nuxial, Toy Spouse e per lo sposo e cerimonia uomo Andrea Versali, Alberto Carlos e Zeus, mentre per la cerimonia donna Venus, Nuxial e Musani Couture. Nel giorno del sì anche il piccolo dettaglio deve essere curato con attenzione, soprattutto non dimenticarsi a casa la sposa. Ecco perché le spose di Mary propone anche gli accessori come intimo, calzature e acconciature per la sposa, camicie, calzature e gemelli per lo sposo. Questa sera le spose di Mary vi propone uno scorcio della collezione Primavera Estate 2011, sfiderà per la sposa e la cerimonia Nuxial e Venus e per lo sposo Alberto Carlos. Le spose di Mary si trova a Luino in via Manzoni 15-17 e potete visitare il sito www.lesposedimary.it e come avrete capito è il momento delle spose di Mary. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Ciao In every mistake, you must surely be loving Still by the time, gently weak Huzzah Ah Grazie a tutti 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 Grazie a tutti